La conduttrice, l'assistente della conduttrice è una conduttrice di un reality show, quindi deve essere tutta splendida, tutta... Ma tu lo vuoi o tu non lo vuoi? Mi piacerebbe, per simbolizzare anche la parte cattiva così la... Dove sta il tuo papà? Lui non c'è, né qua, né là... In senso lato noi possiamo dire che aumentare un broncello, aumentare un violino, un'arpa, qualsiasi strumento significa offrirgli delle risorse in più e queste risorse sono chiaramente in questo caso dall'elettronica e dall'utilizzo digitale dell'elettronica nel rapporto di strumenti. Grazie. Grazie.